Start, 2, 1, initial mission and lift off! Voglio spiegarvi con questo breve video di che cosa stiamo parlando. Perché? Perché questo gioco potrebbe ingannare molti di voi facendovi pensare che magari è un city builder o come lo definisce qualcuno un city builder al contrario dove invece che la città costruiamo la natura. In realtà io, parere mio, lo considero più un qualcosa di simile a un puzzle game. Nel senso che abbiamo una gestione diciamo delle nostre risorse e dobbiamo andare a sfruttare anche le peculiarità dell'ambiente per migliorarlo. È un gioco che ai giusti livelli di difficoltà rapportati a quello che conosciamo, quello che vogliamo, ci aspettiamo potrebbe darvi sfida o relax. Comunque iniziamo il risanamento, vi faccio vedere l'inizio, come funziona. Ha un sistema di progressione interessante perché man mano sbloccheremo nuove tecnologie e avremo anche un manuale che ci spiegherà le peculiarità di ogni struttura che andremo a costruire. Tra l'altro ci sono questi obiettivi tipo bonificare e creare tot caselle di prato per sbloccare un altro edificio. Insomma, quindi è basato su questo il gioco. Ora vi faccio vedere l'inizio. L'inizio è con il tutorial che ci lascia anche un pochino di libertà sul finale. Questa è la bonifica dell'ecosistema. Il gioco è in italiano. Abbiamo la possibilità di scegliere. Io scelgo questo che è quello che ci fa un minimo di strategia. Ora, iniziando dalle basi, vabbè, si muove con il board, si muove con il tasto centrale del mouse o W-A-S-D. Questo è... e poi si può zoomare, cosa che non serve tantissimo. Ora si va a mettere la turbina. La turbina ha la peculiarità di fornire energia ma richiede una roccia o qualcosa di sopraelevato. Vado a piazzarla qui e vedete che ora abbiamo l'accesso, cioè la generazione di corrente che ci consente di mettere questi, che sono dei purificatori antitossine. E dobbiamo andare a metterne quattro. Il gioco ci sta spiegando le basi. Vedete che va a cambiare il terreno che diventa bello fertile. In questo caso si va a mettere l'irrigatore. L'irrigatore va a bagnare il terreno e vedete che ha delle direzioni che possiamo andare a cambiare. In questo caso dobbiamo metterlo così, uno così. Il tutorial ci sta indicando come fare. Vedete che bagnandolo cresce l'erba e crescendo l'erba sale questa percentuale in alto a sinistra. Ora vedete che questo lo piazziamo e ci consuma 50 risorse, che però vengono rigenerate dalla creazione appunto del perato. Ora, piazzato così, siamo andati a creare questa zona, zona che è tutta sotto l'influenza dell'elettricità. Ora dobbiamo portare la vegetazione a talenta. Per farlo potremmo pensare di magari bagnare qualcosa, ma vedete che qui non è posizionabile perché comunque non è sotto l'influenza dell'energia elettrica. Come vedete in questo caso con il purificatore la zona è questa, ma andremo a bonificare una minima parte. Ma ci viene in aiuto la turbina qui, che ci consente di creare un'altra fonte di energia, da cui poi piazzeremo un altro di questi. Che tra l'altro qua me l'aveva fatto piazzare in questa zona, ma non ha senso. Vorrei metterla in un punto abbastanza strategico, così. Mi sembra quella ottimizzata meglio. forse così. No. Ah sì, dai. Così. Ok. Ok. E poi andiamo a irrigare la zona con tutta energia green. Beh, qui potremmo piazzarla... potremmo piazzarne due. Vediamo se c'è un modo più tattico di tipo piazzarla così. e vediamo se riusciamo a completarla. 28%? No. Si potrebbe fare molto di più. Andando magari a metterne un altro qui. Sempre sotto l'influenza di questo. Perfetto. E poi piazzandolo qui. Magari per il lungo. Vediamo se ce lo dà completo. Non ancora. male. Ero riuscito molto meglio la prima volta a fare questa zona qua. Comunque, lo piazziamo così e finiamo. E abbiamo preso anche la nostra bella zona. Vedete che ora c'è la mappa che si apre. E il gioco inizia fondamentalmente adesso. Verrà completato il nostro manuale di spiegazioni sull'ambiente. E su... Vedete? In questo caso abbiamo... Prendendo altri 184 blocchi di prato. Abbiamo modo di sbloccare questo. Il manuale vedete che ci spiega i viomi, gli animali, il clima. Abbiamo le regioni. Abbiamo tutta la spiegazione di tutte le cose che possiamo fare. Ora, vediamo se riusciamo a piazzare qui. O qui. Dobbiamo prendere queste zone. Quindi la mappa è questa. Poi si completerà e finiremo in un'altra mappa. Comunque, lo metto qui. Vediamo come fare adesso che abbiamo imparato le basi. Credo ne basti uno solo di questi. A meno che no. No, no, no. Eh, no. È sbagliatissimo come ragionamento. Perché ne dobbiamo piazzare più di uno. In modo da estendere il più possibile questa zona. Beh, lo ho messo lì. Lo mettiamo qui. E poi lo mettiamo qua sotto, no? Ok. E adesso mettiamolo in irrigazione. Mettiamolo in modo logico. Ok, così. Direi che potrebbe essere una buona idea. Perfetto. E ne mettiamo un altro. Tipo qui. Messo in questo modo. E poi un terzo qua. Ok. Abbiamo sbloccato la pompa idraulica. Riempie gli alberi in fiumi in secca. Molto bella questa. Cioè, è molto, molto, molto bello. Ora, possiamo andare a piazzare questo. Lo mettiamo qui. Così. Così. Bellissimo questo. Questo mi piace tantissimo. Però non possiamo ancora piazzarlo. E voglio capire il motivo. Vediamo gli requisiti. Richiede questo. Perfetto. Ed energia. Quindi, vediamo se riusciamo a farlo da qualche parte in modo logico. Allora. Se io mettessi questo qui. O qui addirittura. Potrei creare una fonte. Qua. Vediamo cosa succede. Ma dà proprio soddisfazione a vederlo così, eh? Allora, metterei un altro di questi qui. E ci mettiamo una pompa qua. E vediamo se riusciamo a... Perfetto. Abbiamo anche un'influenza qui? No. No. No, mannaggia. Qua non c'è corrente. Non abbiamo un modo di... Però abbiamo un modo qui. Quindi la mettiamo una pompa anche qui. In modo che creiamo una cascata. Abbiamo completato praticamente il... Quasi tutta la mappa, ma anche tutta questa zona qui, dove andremo a farlo dopo. Abbiamo sbloccato anche questo, che è il calcificatore. Cristallizza la vegetazione circostante creando rocce. Quindi praticamente... Ah, molto interessante. Molto, molto, molto interessante. Perché ci consente di creare... Vediamo un po' se riusciamo a farlo qui. Ok, perché qui possiamo andare a mettere queste. E andare a sistemare anche zone così, come questa. Mettiamo una lì. Adesso io sto giocando liberamente pensando di sapere quello che sto facendo. In realtà... No. Non abbiamo modo di... I raffin la, ma va bene. Mettiamo lì l'irrigazione adesso. Abbiamo l'obiettivo di 75% di vegetazione sulla mappa. Quindi cerchiamo di farlo il meglio possibile. Allora, così. Bene, manca ancora un bel po'. Adesso mettiamo una che qua. Così che lo piazziamo qui. Questo copre tutta sta zona. Questo copre tutta sta zona. Perfetto. Mettiamo lì l'irrigazione magari in modo logico. Se... Così. Potrebbe essere saggio. Ok. L'abbiamo sbloccato anche questo, che è l'escavatore. Crea nuovi alberi, ma avvelena il suolo circostante. Può essere ruotato. Quindi praticamente avvelena il luogo circostante. Ok. Non lo so. Non saprei cosa fare. Allora, adesso io potrei mettere una turbina qui. E un generatore di acqua qua. Così creo la cascata e vado a sistemare anche questa zona qua. Poi. Qui potremmo metterci... Eh, non abbiamo, mannaggia, una zona verde qui. E lo mettiamo qua. Vediamo quanto riusciamo a coprire... Questa zona qui. Eh, mannaggia, così. Vabbè. Questo cos'è? Ah, posso annullare l'ultima operazione che ho fatto? No. Boh, non so cosa fosse. Ah, sì. L'ultima operazione che ho fatto lo posso annullare. Vabbè, facciamo così. C'è anche tutta questa zona qua che mi piacerebbe sistemare. Così. E vedete che lo definivo un puzzle perché questa zona qui non la possiamo coprire se non andando a creare. Eh, prima magari un albero così, vedete che posso farlo, lo faccio. E poi andando magari a mettere... Il calcificatore non lo posso fare. Sono un bambu perché... A parte che da qui potrei farlo perché abbiamo l'influenza del... Ok. E con l'acqua prendo il calcificatore, creo questo, ci piazzo sopra una di queste e copro anche quest'ultima zona con questo, una cosa qui. Molto interessante. Non posso farlo e non si sa il perché. No, ok. E poi andiamo a innaffiare anche questa zona qui, magari in questo modo. No, perché poi non è coperto quello. Devo farlo opposto. Così. Meglio che niente. Eh, meglio che niente, sì, ma... Così. Ah, sì, dai, non è malaccio neanche questa zona qua, per quanto sto per andare a perdere la partita perché ho quasi finito i punti qua. Allora, riavvia mappa, manuale, opzioni, vabbè. Allora, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo ancora ripulire un bel po' di zona. Quindi prendiamo questa, la puliamo qui. E andiamo a mettergli alcuni di questi. Quindi lo mettiamo uno qui. Ne mettiamo... Allora, uno qui che copre questa zona. Uno qui che copre quest'altra. E poi innaffiamo la zona. Così. O da questa. Eh no, perché non va su. Così. 91%, dai. Non stiamo andando male. Vediamo se c'è un'altra zona che possiamo coprire. Ok, così. Alimentati. Riusciamo a metterne in altro. No, sono tutte zone abbastanza così. No, sono tutte zone abbastanza così. Perché perché... Perché... Così. Perché... Adesso iniziamo a mettere quelli che innaffiano. Così che... Allora. Vediamo se... Così. E poi ne mettiamo uno qua che copre questa zona. Perfetto, molto bene. Una volta assicurato il tuo ecosistema una solida base, puoi procedere a favorire la biodiversità della flora. Introduci Finbos Paludi Foreste. Dovrai anche iniziare a prestare attenzione al clima locale. Ok, quindi siamo alla sezione 2. Quindi abbiamo creato il nostro ambiente. Sera idroponica crea paludi e deve essere costruita su un irrigatore al posto vicino all'acqua. Ok. Quindi praticamente creiamo la palude. La palude dove la creiamo? La creiamo in questa zona qua, in fondo. No? Qui? No. Vorrei farlo... Me la fa fare solo qua. Perché? Perché dobbiamo essere vicino all'acqua. 91... Lo facciamo qua. Palude, vediamo. Perché dobbiamo creare... Ah, deve salire la biodiversità adesso. Ok. Quindi qua è diventata una palude. E poi una volta che abbiamo finito dobbiamo, mi sa, smontare tutto, sbaraccare tutto. L'alveare. Dove lo possiamo mettere l'alveare? Lo mettiamo vicino a un albero, qui. Bellino. E poi... Rissano 81 caselle per sbloccare. Ok. Quindi mettiamo un altro albero, qui. Più 51. Ok. E abbiamo sbloccato anche l'amplificatore solare. Concentra l'energia solare innescando incendi controllati. Perché? Perché dobbiamo incendiare tutto? Ah... Sì, ok. Perché dobbiamo bruciare tutto e creare incendi controllati. Beh... Non so, proviamo. Perché diventa zona feattile dopo? Sì, c'è distrutto gli edifici. E qua andiamo a mettere... Ah, sul terreno bruciato andiamo a mettere l'arboretto. Ok. Quindi lo possiamo piazzare qui. E magari anche qui. Sapete che... E' proprio bello. Ma è proprio bello. Inneschiamo un incendio qui. Poi, intanto, vado a mettere un'altra cosa per la palude. Mettiamo qua, la palude. Ok, qua abbiamo bruciato questo. Andiamo a metterne ancora. Dobbiamo risanare ancora caselle palude. Quindi continuiamo con quest'opera qui. Bruciando vegetazione. Qui, magari. E creiamo un incendio qui. Poi, intanto, voglio piazzargli un sacco di... Allora, lo mettiamo qui. La palude è diventata tutta palude qua. Quindi vedete che stiamo creando anche la... E poi qua si può tornare qua. Vedete che lo definivo un puzzle perché in questo caso magari ci sono delle zone che non ho creato, che non ho terraformato, passatemi il termine, e potrei farlo. Però devo sempre sfruttare questo... Queste foglie. E non ne ho tante adesso. Infatti, se volessi mettere questo, questo non costa tanto in realtà. Quindi potrei... Anche farlo. Per questo si autodistrugge poi. Vabbè, proviamo... Vediamo se riesco a... Espandere ulteriormente questa cosa. Infatti adesso... Quindi ho distrutto tutta sta zona. E non ho abbastanza risorse per fare questo. Quindi... È un peccato. Cioè, ho buttato via... Un po' di roba, in realtà. Potrei mettere questo per irrigare e creare nuove zone. E riguadagnare i punti verdi. Vediamo se ce la faccio. Se ci salva questa cosa. Vediamo. Sì, ok. Mi salva. E piazzo il boschetto della mia fantasia adesso. Qua. È carino perché adesso foresta, ne abbiamo fin troppa. E adesso bisogna continuare con i finboss. Quindi la creazione di alveari. Che non so dove piazzare, tra l'altro. Qua c'è già. Qua non c'è. Qui la possiamo piazzare. Ok. Ci siamo quasi. Anche qui, dai. Abbiamo quasi raggiunto il massimo. Vediamo. Anche qua. Tutto bene qui. Ok. E ora ci manca la palude. Palude che ci costa 50, però abbiamo ancora abbastanza cose. Qua. Palude, palude, palude. Dai, abbiamo quasi completato. Abbiamo sbloccato. Costruisci cento di ricerca. Per uno per sbloccare. Ok. Cento di ricerca. Riduce il costo di alcune strutture. Richiede energia. Beh, ci costa poco. Quindi lo mettiamo qua. E vediamo come funziona. Palude che ha preso le basi del risanamento e di intervenire sul clima dà ragione. Il clima ha definito questi valori. Ci interessa. Ok. Abbiamo completato. Praticamente adesso io mi interrompo qui perché credo di avervi interrogati abbastanza. Se il gioco vi è piaciuto. Lo state già andando a vedere anche su Steam. Insomma. Però ecco. È fatto bene perché uno si aspetta un city builder. In realtà è tutt'altro. Ma a me piace davvero tanto il fatto di vedere una mappa desertica. a cambiare e diventare così. Poi sono tutte cose queste che io credo poi elimineremo alla fine per creare un ambiente naturale finito. Ed è abbastanza. Dà abbastanza dipendenza questa cosa. Infatti si vedono anche i primi volatili qui. Cos'è questo? Escavatore. No. Questo l'avevamo già fatto. Abbiamo condensatore di nubi. E quindi lo possiamo andare. Aspettate. Il centro di ricerca. Cosa mi fa? Niente. Ci ha dato solo la possibilità di sbloccare questo. Condensatore di nubi. Lo possiamo piazzare qui. E andiamo a modificare il clima. Posso piazzarne ancora? Un piazzo qui. Su questa zona qua. Bene. Influous fiori salvatici. Ok. Lo piazziamo anche qui. Lo sto facendo completamente a caso. Ah no. Ci mancavano ancora le paludi. Per concludere. Eh ma il problema è che non abbiamo abbastanza cose per le paludi. Mi sa. Dovrei piazzare un irrigatore. Qui. E poi farlo diventare palude. Ma non ce l'abbiamo fatta comunque. Vediamo se riesco a... Non ho tantissimo per sistemare però... Vediamo se riesco. Facendo... Questa... Eh mennaggia. Non riesco... Non riesco. Non riesco. Non riesco. Non riesco perché... Dovrei... Creare una zona vicinissima all'acqua per creare altre paludi e completare questa percentuale qua. Ragazzi. Questa era Terranil. Molto 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 interessante. Mi intriga piuttosto tanto. Non costa poco ma è un gioco estremamente curato. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima. E ciao ciao.